ecco il nostro circuito di lettura che adesso andremo a accendere della potenza del ROS è un comparatore di tensione a cui abbiamo dato 5 volte in questo momento per una lettura di 180 watt e 0 volt sulla porta del ROS sono tensioni che andremo a leggere del bridge grazie al potenziometro andremo a incrementare la lettura del ROS gradatamente finché vedremo scattare il relè di protezione quindi siamo ROS 1 e 5 simuliamo le condizioni di funzionamento vedremo che come ROS supera il 2 si accende il led e scatta il relè in questo modo andremo a togliere il comando ptt e a togliere corrente finali che verranno salvati non appena il ROS supera il 2 per resettare il circuito vedete legge fino a 10 di ROS ma può essere regolato su tensioni minime finché non andremo a togliere tensione al nostro finale di potenza rimarrà in protezione quindi togliamo l'alimentazione la ridiamo e avremo di nuovo il circuito funzionante il ptt ripristinato e l'alimentazione con questo semplice circuito proteggeremo il nostro finale da 500 watt l'alimentazione con questo semplice